Ho visto coraggiosi pionieri che si sono rimboccati le maniche per far sì che un sogno diventasse un progetto. Ho visto gente che a tutti i livelli ha lavorato duro, con sacrifici, con sudore, perché quel progetto diventasse realtà. Ho visto cose che voi umani non potete neppure immaginare. Ho visto una formica sfidare un gigante e vincere. Ho visto lavoratori credere di far parte di una famiglia e che l'hanno fatta crescere, cioè criticando la loro di famiglia, quella nera. Ho visto più volte il miglior casto marquer d'Europa. Tutti questi momenti andranno perduti come lacrime nella pioggia se ci arrendiamo.